ed eccolo ragazzi l'evento di capodanno di quest'anno pro 2020 fortnite evento di capodanno come l'anno scorso ragazzi palla da disco cattivissima molto fast e molto veloce niente di che però questo è ragazzi 2020 sbronk con tanto di fuochi d'artificio inclusi ragazzi mamma mia anche quest'anno l'evento del 2020 non ha deluso le aspettative è sempre molto molto carino tanta tanta roba